Ciao ragazzi da Orgogliosamente Bianconero, siamo qui a commentare questa bella vittoria tutto sommato della Juve ad Empoli, vittoria ovviamente firmata dal bimbo fenomeno Dusan Vlaovic che anche ieri ha dato dimostrazione di quanto sia forte, quanto sia determinato, quanto sia un predestinato, perché signori miei, quei due gol di ieri sono, se analizzati bene, qualcosa che fa veramente capire il livello del calciatore, perché sul primo gol tutti gli attaccanti o quasi avrebbero subito tirato in porta e magari si sarebbero fatti controbattere il tiro dal difensore in scivolata, lui invece lo fa sedere e con una calma olimpica poggia la palla in rete con grande sicurezza. Nel secondo gol molti se ne sono, pochi se ne sono accorti anzi, forse lo stesso Allegri che ieri sentivo dire gran palla di Morata, assolutamente no, guardatela bene ragazzi, quella palla di Morata è stata data dietro e tantissimi attaccanti su quella palla difficilmente la stoppano e se la stoppano quasi che tornano indietro, perché la palla è arretrata, invece lui riesce ad arpionarla senza che praticamente con una naturalezza impressionante se la porta avanti con un unico tocco, arpionamento e portate in avanti e poi alla freddezza olimpica di praticamente non sbagliare mai davanti alla porta. Per cui questo è un fenomeno, l'immagine che mi resta è quella che credo tutti abbiate visto negli ultimi secondi di partita, quando riesce a prendere quella punizione sulla linea laterale che praticamente determina la fine della partita, quando con la grinta dice sì, questa partita l'abbiamo portata a termine. Era una battaglia, l'Empoli ha giocato bene, è una squadra che gioca sempre, anche sul 3 a 1, ha continuato a giocare e per poco non la pareggia. Noi continuiamo ad avere quei limiti che non possono scomparire così da un momento all'altro, a maggior ragione continuiamo a perdere pezzi in una maniera, non lo so se il prossimo ritiro lo vogliamo fare a Lourdes, è un appello ad Andrea Agnelli alla società, facciamolo a Lourdes perché non è possibile, ogni settimana ne perdiamo uno, ma non è che ne perdiamo uno per un calcettino, un affaticamento, escono per crampi, no no no, escono solo per infortuni di un certo rilievo, per cui Zaccaria, infortunio allinguide, infortunio muscolare, chissà per quanto, ma voglio dire speriamo adesso mister che a Firenze ne mettiamo un paio giovani perché gli altri hanno bisogno di rifiatare, cioè se non riusciamo a recuperare nessuno, Bernardeschi lo abbiamo perso per strada, Di Bala sta alle sfilate di Armani e a tutto sta pensando tranne ad entrare in campo e a determinare, per cui è un appello anche questo alla società, se è così, perdiamolo a zero, perché davvero è come non averlo lo paghiamo e non lo abbiamo, è un po' Ramsey, insomma più o meno siamo là, tu lo paghi ma non ci puoi contare su Di Bala tu poi giuro che puoi contarci due o tre partite e poi si fa un mesetto alla casa, non lo so, vogliamo pagarlo per stare nel J Medical? Non penso, comunque. Abbiamo adesso questa partita a Firenze, ritorno un attimo indietro dicendo che non credo allo Scudetto, che che ne vogliono dire, ne si se, adesso le pressioni giornalisti, adesso la Juve è tornata in lotto, no, la Juve si è semplicemente iscritta a questo campionato con qualche mese di ritardo, adesso possiamo anche dire la nostra nel gruppone delle prime 4-5 squadre della classifica, però allo Scudetto, lo Scudetto se lo giocano quelle tre, crisi o non crisi interessa poco perché hanno un margine secondo me che in 11 partite la Juve non può recuperare perché non vinceremo tutte le 11 partite dati anche gli altri impegni che abbiamo e la rosa ridotta praticamente non all'osso di più, voglio vedere adesso il Napoli soprattutto, sono curioso, una volta uscito dall'Europa League, cosa ampiamente da me prevista perché ricordatevi, segnatevelo, il Barcellona di Xavi un altro paio d'anni, tra un paio d'anni ne sentiremo parlare, non so se tornerà ai fasti del Barcellona di Guardiola perché quella aveva Messi però step by step Xavi vedrete che farà bene perché ci sono davvero dei giovani molto molto bravi e Barcellona darà filo da torcere a tutti anche in Europa, ricordatevelo, per cui Napoli-Lazio e Napoli-Milan sono due partite che diranno se effettivamente il Napoli può giocarsi davvero lo Scudetto, per me l'Inter resta la favorita, adesso arriva questo derby in cui sono contento che si toglieranno energie l'uno con l'altro e comunque insomma se io lo sapete no, fra Inter e Milan spero vinca il Napoli, lo Scudetto però diciamo sarà veramente una bella notte, erano anni che non si vedeva perché i nove anni della Juve l'anno scorso l'Inter ha stradominato, erano anni che non si vedeva un campionato che a 11 giornate dalla fine avesse questo tipo di classifica, semifinale di Coppa Italia dicevo che comunque avranno una storia abbastanza lunga perché il ritorno si farà poi il 22 aprile, 21-22 aprile, quindi si parla di due mesi, quindi vedremo come andrà chiudo dicendo, volendo parlare un attimino di Shesny, bello il suo post, quello in cui abbraccia la moglie nella foto in cui abbraccia la moglie e parla insomma di quello che sta succedendo in Ucraina lui che ha la moglie ucraina, ha un figlio con sangue ucraino, ma molto molto bello invece quello che ha detto nell'intervista post partita a Dazon, non so se l'avete ascoltato in cui a domanda lui ha risposto sono contento che la Polonia si rifiuti di giocare contro la Russia allo spareggio per andare al mondiale spero facciano tutti così, nessuno voglia giocare con la Russia in modo tale che voglio vedere se la FIFA ha le palle di assegnare praticamente a tavolino il mondiale alla Russia chapeau per queste partite, speriamo bene che invece la Russia venga finché c'è questa maledetta guerra e squalificata da tutte le competizioni a livello nazionale, quindi di nazione e quindi anche di squadre di club perché sinceramente di tutto abbiamo bisogno ora che stiamo uscendo finalmente da due anni di pandemia di tutto abbiamo bisogno, tranne che di una guerra che alla fine fa male a tutti e le conseguenze alla fine le pagano soprattutto i più deboli speriamo bene, facciamoci tutti quanti un segno della cruce e speriamo che questa guerra finisca ancora prima di essere iniziata vi saluto, vi invito ad iscrivermi al mio canale, Orgogliosamente Bianconero attivate la campanellina così siete sempre informati sui miei nuovi video vi invito anche a seguirmi se qualcuno ama la lettura sul mio blog c'è il link in descrizione, Orgogliosamente Bianconero anche su Instagram Orgogliosamente Gennaro Bianconero fanpage di Facebook e c'è il link in descrizione anche del bar dei tifosi channel dove con amici di tutte le fedi calcistiche facciamo dei talk show dei dialoghi su come è andata la giornata di campionato e su come andrà il proseguo del torneo stesso faccio anche un appello che ho fatto anche sui social siamo alla ricerca di un po' di quote rosa all'interno di questo bar quindi se qualche ragazza, qualche donna che si intende di calcio un minimo è appassionata e vuole insomma dialogare con noi per divertirsi mi contatti e posso poi spiegare come funziona il tutto vi saluto da Orgogliosamente Bianconero è tutto fino alla fine Forza Juventus ah dimenticavo, grandissimo quegli ultimi 30 secondi di Dusan Blaovic quando sulla linea del falo laterale sì, sì, l'abbiamo portato a casa grande Dusan ciao ragazzi, fino alla fine